Polemicamente la Gazzetta inizia con Inter per Garzia ricevuta a rimarcare insomma il brutto gioco dell'Inter che tuttavia gli ha portato i tre punti. Siamo con Stefano Brandini e sentiamo il calcio nel sedere. Buongiorno a tutti. L'Inter in effetti ieri ha vinto grazie a un infortunio del difensore del Palermo. E' una squadra che probabilmente sta risentendo anche dell'assenza di Cassano. E' una squadra che sicuramente risente molto anche delle polemiche su Sneijder. Un giocatore che io fossi l'Inter ci penserei più di una volta. Che oggi dovrebbe incontrare tra l'altro assieme ai suoi manager. Sì, è vero che c'è un problema di soldi. E' vero che se il fair play economico dell'Inter prevede una spalmatura del contratto alla quale tutto è aderito è giusto che aderisca anche lui. Insomma, però sicuramente questo clima non fa benissimo. E' vero che l'Inter aveva fatto probabilmente anche molto più di quello che doveva fare. Una flessione, però una flessione che ha portato tre punti. Credo che comunque il calcio nel sedere per eccellenza. Ieri lo debba prendere il Genoa. Che sembrava aver interrotto la china dei risultati negativi dopo la vittoria fuori casa Bergamo con la Talatta. Altra squadra tra virgolette in crisi. E invece ieri ha preso una sonora batosta tra l'altro contro una diretta concorrente per la salvezza che è il Chievo. dell'allievo Corini, perché insomma non so se tu sai che nel Chievo dei Miracoli di Del Neri Corini era il capitano nonché regista. Ieri era l'allenatore invece del Chievo. E ha vinto 4-2. Quindi nuovamente nel Baratro per una squadra insomma che ha a nove all'interno della Rosa. Giocatori che non dovrebbero assolutamente albergare in questa classifica. Però quando le campionate si mettono male è così. Lo stesso discorso vale per l'Atalanta in maniera molto diversa perché l'Atalanta ha sicuramente una classifica molto più sorridente. Però sono un paio di domeniche ritengo che con il Genoa in casa abbia subito un furto. Ieri invece a Bologna ha veramente avuto una flessione, ha giocato male ed ha perso. E con l'Antuono che è un bravissimo allenatore senza mezze scuse. Ieri ha detto se si continua così forse ci siamo montati un po' troppo la testa. Bisogna ricordarsi che non bisogna salvarsi. Questo non è il verso di andare avanti. Per il resto ho visto ieri sera una bella partita in Fiorentina-Sandoria. Due belle squadre. La Fiorentina era mutilata di giocatori importanti. La Sandoria però ha trovato un nuovo assetto con Tissone e Poli dentro il campo. E probabilmente non è un caso che da quando ci sono questi giocatori ha cambiato marcia. Quindi Ciro Ferrare è molto più al sicuro di Del Neri. Sì è molto più al sicuro anche se ci ha messo un po' a quadrare il cerchio. Insomma questi sono giocatori che devono giocare. E poi la scoperta di questo centravanti giovanissimo che sta per ora riuscendo a non far rimpiangere i tanti assenti davanti che ha la Sandoria. Insomma quindi un pareggio meritato contro comunque una Fiorentina che è in salute. è una Fiorentina la quale mancava Toni, mancava Lielic, mancava Jovetic. Che ha giocato comunque bene. Una squadra che ha le idee chiare, che sa quello che vuol fare, che ha un'ottima classifica. Poi insomma a fine partita mi è sembrato dalla televisione sentire qualche mugugno. Noi toscani perché siamo tutti uguali ci si dimentica da dove siamo partiti e tutto quanto. La Fiorentina è a sei punti dalla vita. Campionato meraviglioso, gioca un bellissimo calcio. Ma Firenze devono essere contenti. Una proprietà importante come della Valle che sicuramente se a gennaio c'è bisogno un pezzo o due per tentare il colpo grosso lo fanno. Quindi insomma a Firenze c'è da essere contenti. Io invece ero a Siena dal mio amico Serse ieri e devo dire una cosa, non per l'amicizia che mi lega a Serse e a Mario Palazzi. Il Siena gioca veramente bene. Se poi guardi questa formazione ti accorgi che ci sono, non voglio essere frainteso, non voglio essere offensivo, ma i scarti della Serie A. C'è un Felipe che non lo voleva più nessuno e che ieri invece ha giocato un'ottima partita. È una squadra che ha un progetto di gioco, è una squadra che sa quello che vuole. Ha a larghi tratti, ha zannato la Roma e ha cercato di imporre il proprio gioco. È andata anche in vantaggio, tutto sommato, meritatamente. Poi per una disattenzione, qual è la differenza tra una squadra di provincia e una grande squadra? Qual è? Che quando commetti una disattenzione la grande squadra, pur giocando male, c'è i giocatori che ti risolvono la partita. Ha fatto l'1-1 con Mattia Destro, poi se si va a guardare il tabellino, alla fine il 2-1, l'ha preso tra l'84esimo e il 90esimo. Quindi dispiace perché innanzitutto ricordiamoci che il Siena ha 6 punti di penalizzazione e oggi con 17 punti avrebbe più punti del Cagliari, del Torino, del Chievo, del Bologna. E comunque nonostante questi punti penso che ce la faccia. Nonostante questo è in piena bagarre. Sono queste le partite alle quali il Siena non è che chiede risultati. Queste sono le classiche partite dove il Siena tutto quello che prende è trovato. Però io dico che è una squadra che... C'è la Juve e il Siena al prossimo turno? No, gioca nuovamente in casa con il Catania. Per esempio, con il Catania in casa è una partita che non deve assolutamente padellare. Un Catania che è una bestiaccia, è giocarci, è composta da un sacco dei sudamericani, forte, che ha le idee chiare, che domenica nell'anticeo ha perso in casa con Mila. Ecco, quella è una partita dove ho dentro fuori. Io faccio sicuramente l'imbocca al lupo a Cosmi perché mi lega a Cosmi, a Mario Palazzi. Un'affetto, un'amicizia, una stima fantastica e mi auguro che il Siena possa alla fine rimanere nella massima serie. Tu sei molto amico di Cosmi. Sì. È strano perché una volta gli fece un'intervista e mi disse io di solito gli amici scemi non ce l'ho. No, io mi risulta che Cosmi ti hai provato più volte a fargli l'intervista e disse io che c'è le brolesi non ci parlo. Sì che ognuno ha le sue verità. È vero. Saluti a tutti, arrivederci.